Apri il tuo libretto. 18, Chef. 21, Chef, con l'ultimo test di approfondimento 6. Spare sotto. 17, Chef. Seguelo con il punteggio più basso. 19, Chef. 18, Chef. 18, Chef. 16 totale. Bonseri, tu sei bocciato. Sì, Chef. Ti ho inserito in corsa a te, in un gruppo già formato. Non era sicuramente un compito facile. Non ero impianti, né rimorsi. Non ero una persona con cui avevo interagito, con cui avevo creato una relazione, quindi non mi fa né caldo né freddo. Tutto fumo, niente arrosto. Bambè, mi raccomando.